Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Beatrice Luzzi, ex geffina e oggi opinionista del Grande Fratello, ha recentemente rilasciato un'intervista esclusiva al magazine Chi, dove non ha risparmiato critiche alla giornalista del TG5, Cesara Buonamici, con cui condivide lo studio. Le parole di Beatrice lasciano intendere che ci siano state delle tensioni nel loro rapporto professionale, ma anche opinioni divergenti su alcune tematiche importanti. Non ho apprezzato il fatto che Cesara, una donna con un peso culturale così grande, non mi abbia difesa quando sono stata attaccata da Massimiliano Varrese e Marco Maddaloni. Anzi, ha salvato più volte Varrese impedendomi di nominarlo, e ha addirittura indicato Maddaloni come esempio per tutti, ha affermato Beatrice, riferendosi a situazioni vissute durante la trasmissione. La Luzi ha poi sottolineato che nonostante le loro differenze, non vi è alcun astio personale. Abbiamo solo opinioni diverse. Lei ha, secondo me, una visione antiquata sulle dinamiche femminili, ha aggiunto. Il riferimento è stato soprattutto a un episodio riguardante Elena Prestes e Jessica Morlacchi, durante il quale Cesara avrebbe commentato con una battuta considerata da Beatrice un esempio di una guerra tra donne, un concetto che l'attrice considera superato. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. Beatrice Luzi ha anche parlato della sua erede all'interno della casa del grande fratello, Julia Bruschi. Ho notato subito che aveva qualcosa di diverso, un'energia particolare. Dopo aver visto che è stata nominata da molti, ho capito di aver avuto ragione, è la mia erede. L'attrice ha infine riflettuto sulla nuova generazione di donne che, a suo dire, sono più propense a fare squadra e a solidarizzare, rompendo quei vecchi stereotipi di competizione sulla bellezza. Oggi le ragazze si apprezzano e si sostengono, e questo segna una differenza culturale significativa tra generazioni, ha concluso. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.